Giorgia Lauda, Catania, 1960, è una cantante italiana di origine siciliana attiva discograficamente tra il 1978 e il 1985. Tra il 1978 e il 1980 le sue canzoni vengono programmate spesso a radio e tele Monte Carlo, specialmente nel programma televisivo giornaliero pomeridiano condotto da Jocelyn e Sophie Umpeu, d'Amour, d'Amitié e Buchap de Musik. Dal 1983 al 1985 e incide dischi in lingua tedesca per il mercato discografico della Germania, dove partecipa a trasmissioni televisive tra cui a Insfestival WWF Club, 1985.